Ci troviamo in Albaro, in via Puggia, precisamente dai Villini, contesto residenziale privato con cancellata e zona verde anche per i parcheggi condominiali. Andiamo a vedere subito questo soggiorno molto grande, plurivetrinato, plurifinestrato, in particolare della porta blindata, in particolare di impianto elettrico, dotato di allarme, apparelli in parte sono manuali in parte elettriche. Molto bello. Vediamo subito il balcone. Il bel balcone di Divina. Silenzio assoluto. Sentono uccellini, papagalli. Un po' in particolare di quello che è il soggiorno. Non c'è dispersione di metri con corridoi. Abbiamo qua la prima camera, camera singola. Sono gli split d'aria. Molto belle le porte interne. Proseguiamo. Abbiamo la camera matrimoniale. Molto belle gli affacci. Tutti nel verde. Vovamente raro. in silenzio, veramente regna sovrano. Anche qua split. Belli pavimenti. Le porte. Proseguiamo con l'altra stanza. Lo so. Fare le camere. Anche qua, tutto nel verde. Splitta. Quanto soffiare. Quanto soffiare. Qua siamo in cucina. Veramente un bellissimo immobile. Qua abbiamo un altro balcone. Qua abbiamo un altro balcone. Qua la vista vendita. Opertissimo. Non è indietro. Adesso andiamo a vedere il terrazzo sovrastante di proprietà. Poi abbiamo anche una grande cantina. Quanta. Quanta. Grazie a tutti.